L'estate se n'è andata, con l'arrivo della stagione autunnale arriva anche l'ordinanza del sindaco che mira a contenere le polveri sottile e a ridurre la concentrazione degli inquinanti dell'atmosfera. Dal 15 ottobre al 31 marzo divieto a Bassano di circolazione, giorni feriali dalle 8 e 30 alle 12 e dalle 15 alle 18 e 30, nella parte del centro storico per le auto e i veicoli commerciali classificati Euro 0, Euro 1 alimentati a benzina e per le moto e ciclomotori a due tempi classificati Euro 0, autovetture e veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 3. Sono esclusi i veicoli con contrassegno per handicap, carri funebri, veicoli di soccorso o per case di riposo, scuole. L'invito è quello di usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano a privilegiare l'uso del mezzo pubblico che sarà possibilmente il mezzo a minore emissione. Divieto ancora di mantenere acceso il motore dei mezzi pubblici in fase stazionamento al capolinea, in sosta per i veicoli merci, per le auto nei pressi dei passaggi a livello e dell'impianto semaforico di vicolo Bastion intersezione con via Brocchi. Il divieto si estende anche alla combustione di ramaglie e residui vegetali salvo i fuochi dell'epifania.